Essendomi pervenute molte segnalazioni relativamente ai buoni spesa che il Comune di Asti ha distribuito fra le famiglie in emergenza e che dovrebbero essere accettati dagli esercenti che hanno aderito al nostro bando solo in pagamento di beni alimentari di prima necessità, mentre invece sembra che questo non avvenga sempre, andrò a indagare di persona. Naturalmente ci dovrò andare in incognito, quindi via gli occhiali, via la barba ed ora un abbigliamento che dia meno nell'ultimo tocco. Ora siamo pronti a parlare e girare alcuni supermercati. Abbiamo comprato cose indispensabili, tipo un passito di pantelleria e mi è subito stato detto, sì ma le condizioni di non acquistare alcol e alcol. Senza barba e senza occhiali non l'avevamo riconosciuto. Grazie, non hai risposto perfettamente a quello che è il nostro bando e quello che è il sindaco. E quindi sto verificando che questo non è una azione e quindi possiamo tornare alle sembianze quasi normali. Darò i risultati nella diretta di questa sera. Grazie. Grazie.